Zucca e patate in tricitrice d'aria, un contorno facilissimo e davvero delizioso. Togli la buccia alla zucca. Io preferisco le varietà violina o butternut che per gran parte sono prive di semi. Taglia la zucca a pezzi piuttosto grossolani. Taglia le patate a pezzi delle stesse dimensioni dei pezzi di zucca. Trasferisci zucca e patate in una ciotola. Aggiungi aglio in polvere, un po' di rosmarino e un po' di salvia. Unisci una macinata di sale e una di pepe. Versa un filo d'olio. Mescola per distribuire il condimento sugli ortaggi. Trasferisci zucca e patate nella friggitrizia d'aria. Cuoci a 180 gradi per circa 30-35 minuti. Sforna la zucca e patate cotte nella friggitrizia d'aria. Buon appetito! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!